Sono i maestri del fashion style e sono pronti a svelarvi i segreti dell'eleganza. Gli spensatori di preziosi consigli cercheranno di valorizzare la vostra immagine. Carla ed Enzo sono loro che urleranno a tutta Italia. Ma come ti vesti? Enzo, di solito lavoriamo con donne e la ricerca della propria femminilità. Oggi abbiamo un caso unico. Eccola lì, eh sì, è proprio lei. Sette in condotta, eh? Si può andare conciati così? Mi chiedo. Non è sé niente di buon gusto e di stile, rimandata completamente a settembre. Enzo, altro che rimandata, questa è una bocciatura secca. Comincia a piangere. Guarda che lunghezza! Cioè, una longhet così la puoi mettere se sei. Anche una modella un'ottanta. Un metro e ostanta. Suora, un po' zitella anche. Un look da suora e zitella allo stesso tempo. Ma no! Non hanno chiesto mica una tavolozza del pittore, eh? Come fa antico. No! Sbagliato tutto. Come è antica! No, non va bene. Queste immagini sono pietose, preferisco leggermi un libro di casca. Cosa? Cosa? No! Compra! No! Bocciata! No! Come stai? Come ti senti? No, più colorato di così si muore! Infatti sto morendo! Cioè... Non ti ha lasciato! Ti rendi conto! Riprenditi! Uuuuh! Che mix! Aiuto! Combat! Cosa è successo qui? Così brutte tutte insieme le cose non ho mai viste. Cioè, è una sfida. Posso rifiutarmi? Credo... No, credo non possiamo! Dobbiamo correre! Temo... Dobbiamo correre! Andiamo! Hey! I need your approval. You look amazing. Really? The necklace isn't too much? No, it's perfect. Ok, thanks. Now I can relax. When it comes to fashion, you are my guru. Come back and do my homework. I'm happy too! We've got to do the易 México. I'm happy to have to do the best food. These clothes are my tio in the world. We've got to do the best food. We've got to do is we've got to do with the best food. We've got to do the best food. And now I'll do it. We've got to look in the best food. And we've got to do so and do all the best food. Grazie a tutti